Ciao ragazze, tempo fa vi avevo detto che avevo fatto degli acquisti della Essence allora io avevo acquistato queste cartine qua, SOS Nail Repair Pads con anche nail glue che penso che sia una colla, sì c'è scritto colla unghie allora, purtroppo non vi avevo mai fatto il video perché semplicemente fino ad oggi avevo le unghie che fortunatamente non mi si rovinavano non mi si spezzavano oggi purtroppo è successo questo ve lo faccio vedere, non so se si capisce si è rotta qua, non so se vedete bene allora ho pensato, siccome sono abbastanza lunghe le altre le accorcerò comunque tutte quante però voglio mantenere questo qui anche perché se dovessi staccare proprio l'unghia del tutto andrei sulla carne, per cui già così fa male e allora ho pensato di mettere il pezzo allora, questo si apre qua vi faccio vedere ok, sono delle striscioline sembra al tatto, sembra seta sono di diverse misure adesso mi servono le unghie piccole piccole mi servirebbe questa grandezza qua che io avevo già fatto delle prove diciamo questa qua tanto poi la ritaglio a seconda di quello che mi serve anche di qui ho visto che c'è un piccolo taglietto adesso vediamo comunque diciamo che mi serve per coprire questo angolino qua e quindi taglio un pezzo da qua intanto che lo taglio a misura perché deve combaciare abbastanza bene spengo la videocamera e poi vi faccio vedere come l'ho tagliato ecco qua ragazzi adesso l'ho tagliato così come lo voglio io in base alla mia salgona tenete presente che si arrotola per cui va a combaciare bene e adesso lo vado ad appiccicare sull'unghia allora tolgo la parte sotto la tengo dal bordino aspettate che ho tentato di farvelo vedere il meglio possibile ok come vedete è molto elettrico bisogna avere una manualità quasi perfetta comunque ce l'abbiamo fatta lo faccio aderire bene laddove mi servo ovviamente e poi su tutta l'unghia poi prendendo questo faccio in modo di schiacciare bene tutti gli angoli poi ovviamente vi dirò quanto mi è durato ok lo arrotolo anche qua poi c'è scritto sulla confezione che con la parte più con grana scusate con grana grossa della limetta vado a tagliare facendo così si dovrebbe tagliare il prodotto sapete cosa mi fa intanto che lo faccio che cosa mi viene in mente la stessa cosa cioè assomiglia molto come procedimento a quella specie di gel che vi avevo fatto vedere tempo fa per la ricostruzione in fibra ecco più o meno ci siamo il significato è quello vedete è venuto via adesso tolgo i filettini perché essendo io sicuro che si imbrasita tolgo tutti i rimasuli dei filetti e questa è la nostra unghia è bianco adesso vediamo mettendo la colla che cosa salta fuori però vi dico già da adesso che insomma dobbiamo ancora un po' ok adesso si prende questa colla che tra l'altro dicono vediamo se è vero speriamo che si apre che ha già il pennellino ah si è vero ok quindi è facile da mettere allora adesso metto così così avete più il contrasto scusate se vi passo davanti ok prendo un po' di colla e come se mettessi uno smalto vado a passarla su questa lo chiamo fibra esattamente come la seta puzza questa colla in una maniera micidiale non vi dico che odore che c'è qua però ok mamma mia ok vi faccio vedere la differenza con unghia vera aspettiamo un attimo che si asciuga così limiamo ancora queste parti qua in eccesso già notate che si vede sempre il taglietto però con quello lì dovrebbe essere riparato aspettiamo che si asciuga perfetto ragazzi allora questo è il risultato se passate su l'unghia non è liscia perché comunque la fibra si sente secondo me converrebbe dare uno smalto scuro io adesso però prima di finirla così gli metto su questo indurente che è quasi finito della Salliance Hansen per renderlo un po' più liscio perché se dopo gli metto lo smalto colorato non mi piace sinceramente che sia tutto così sembra grumoso comunque vi farò sapere poi quanto è durato magari ve lo metto nei prossimi giorni nelle note e per il momento a posto così un bacione a tutte ciao 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 Grazie.